ciao a tutti sono in jmac e benvenuti in questo nuovo video allora nel precedente video che ho realizzato abbiamo visto come si collegava l'asse epsilon e abbiamo testato il funzionamento in questo episodio andiamo a montare l'asse z che va posizionata sull'asse epsilon quindi per realizzare l'asse z ho costruito questo meccanismo il meccanismo è questo qui ci sono due pezzi a c in cui ho realizzato due buchi sopra e altri due sotto e la stessa cosa anche da quest'altra parte in cui vanno inserite due cilindretti di questi qui quindi uno a qui e l'altro acqua però in uno di tutte e due ho inserito anche una molla per avere anche un po di pressione in più quindi questa è la struttura adesso prendo la cola a caldo e fisso questi due cilindri ho messo prima sopra un po di colla a caldo adesso la vado a mettere anche sotto queste qui e l'asse z questo è solo il meccanismo dell'asse z ho inserito questa piccola via qui perché andremo a mettere un servo motore che ci alza e scende il movimento di questo di questo meccanismo deve essere minimo cioè ci serve solo a fare alzare ed abbassare la penna quindi qua sopra andiamo a incollare questo piccolo pezzo qui allora ho preso un tubo l'ho tagliato la misura è più o meno di un tre centimetri 4 cm dove ho messo un dado quindi qua dentro viene inserita la penna e stringo la penna e questo pezzo qui lo vado ad incollare vicino qua quindi va così incollato ci sono due c con due con due asti diciamo ecco qua qua va inserito il servo motore che sale e scende però il movimento qui lo faccio alzare di un centimetro massimo anche di meno secondo qua dentro andiamo ad inserire una penna quindi andiamo a mettere la penna inseriamo la penna prima lo devo svitare quindi inseriamo la penna e dopo di che lo possiamo regoliamo l'altezza della penna e lo di che stringiamo però prima di fare ciò dobbiamo montare il servo motore vicino qua servo motore lo mettiamo lo mettiamo in questa maniera quando mettiamo parallelo all'asse e con questa levetta che sale e scende quindi questa levetta qui siamo così che sale e scende il servo motore per collegare il servo motore come possiamo vedere ci sono tre colori il marrone è il negativo il rosso il positivo e infine il giallo ci serve per il controllo del servo motore quindi questo va al più questo almeno questo qui va un p o un pin di un pin di arduino questo servo motore qui va da 0 a 180 gradi quindi possiamo dire quanti gradi può fare poi li andiamo a regolare noi sul programma di arduino quindi adesso andiamo a mettere il servo motore parallelo alla struttura per fare ciò uso un pezzo di ferro quindi quindi uso questo qui glielo attacco sotto e uso un po di colla a caldo e quindi li metto paralleli in questa posizione qui e tutto questo procedimento va incollato vicino l'asse y adesso incolliamo il servo motore una volta incollata la struttura andiamo incollare il motore qui quindi la struttura è questa qui sembra un po complicata ma non è niente di che quindi qua inseriamo la penna col servo motore saliamo e scendiamo la penna quindi adesso andiamo incollare tutta questa struttura vicino l'asse z quindi viene più o meno così ecco qui l'asse z è finalmente montata ho messo tanta colla a caldo vabbè solo per essere più sicuro dopo aver montato l'asse z andiamo a collegare i nostri tre fili quindi andiamo a vedere la parte elettronica rispetto al video precedente ho realizzato solo una piccola modifica cioè invece di usare arduino 1 l'ho sostituito con arduino nano però i pini sono gli stessi infatti non cambia niente ho solo spostato i pini da arduino 1 l'ho solo spostate l'ho messi su arduino nano allora qui non si capisce niente però vi lascio una foto da qualche parte così capite meglio allora io adesso collego il negativo lo collego su questa parte qui quindi dove ho messo tutti i negativi il positivo invece lo collego al più e infine il questo qui arancione lo collego al pin 6 ragazzi se avete qualche caldo di tensione basta mettere un condensatore sul più e sul meno una volta collegato tutta la struttura quindi l'asse z asse y asse x andiamo a creare il nostro primo disegno in formato g code e lo andiamo a disegnare quindi adesso ci spostiamo sul computer grazie allora il programma che andremo ad utilizzare oggi per creare disegni con estensione g code e escape escape è un programma open source del disegno quindi di grafica vettoriale che ci permette di realizzare il nostro disegno quindi noi possiamo importare il file con estensione svg png con qualsiasi estensione ed esportarlo nell'estensione g code questo programma in estensione g code dopodiché lo andremo a caricare con pro interface allora per scaricare escape basta andare basta scrivere escape nel nostro browser e cliccare sulla prima ricerca quindi sito web che ci esce e ci clicchiamo sopra clicchiamo su scaricare e selezioniamo il sistema operativo che abbiamo nel mio caso windows quindi scarichiamo la versione o a 32 o a 64 la possiamo sia scaricare con con estensione .exe oppure il debug con tutti i file io lo tengo già scaricato allora quindi una volta scaricato ed installato lo apriamo una volta aperto escape dobbiamo settare il nostro piano di lavoro allora questo piano qui sarebbe il piano in cui andremo a disegnare quindi dove la cnc andrà a scrivere il nostro disegno allora quindi dobbiamo andare in file proprietà del documento e qui andare a scrivere centimetri e centimetri e scriviamo otto centimetri per otto centimetri quindi il piano di lavoro e questo qui il nostro piano di lavoro adesso vogliamo fare un disegno allora se vogliamo mettere una semplice scritta quindi quindi adesso clicchiamo sulla a e scriviamo una parola quindi ad esempio ape e la mettiamo da 4 fino ad 8 perché se la mettiamo più grande non entra nel nostro piano di lavoro una volta fatto ciò andiamo in tracciato d'oggetto a tracciato e la salviamo scriviamo disegno disegno primo qui sotto andiamo a selezionare gcode e facciamo salva dopo aver salvato il file apriamo pro interface selezioniamo la porta dove è collegato il nostro arduino e ci colleghiamo una volta che ci siamo connessi basta vedere dobbiamo testare l'asse z quindi dobbiamo vedere se sale e se scende quindi carichiamo premendo sull'add file premiamo sull'add file e carichiamo il disegno 1.gcode se la vostra scritta non dovrebbe uscirvi diciamo su questo piano su questa griglia e vi esce da quest'altra parte significa che su escape invece di metterlo da 4 ad 8 dovete metterlo da 0 a 4 adesso premiamo su print e vediamo se l'asse z si muove nel modo corretto come possiamo vedere l'asse z si muove di poco quindi per noi va bene se invece non si muoveva oppure si muoveva di meno o di più se non si muoveva di meno o di più quindi quando la penna è alzata e quando la penna è abbassata e quindi regolare gli angoli del nostro servomotore adesso noi mettiamo una penna sull'asse z e incominciamo a vedere come scrive adesso mettiamo un fogliettino bianco sulla base lo fermiamo con un po' di scotch e lo fermiamo anche sotto una volta fatto ciò posizioniamo la penna però adesso la penna è posizionata verso su quindi è come se sta alzata invece noi adesso facciamo partire un disegno quindi premiamo su print e facciamo abbassare il servomotore una volta premuto su print e dopo di che ho premuto pausa posizioniamo la nostra penna facendo attenzione che tocchi il piano spingiamo un po' di giù e blocchiamo la penna ecco qui adesso basta portare solo i due assi al punto zero e facciamo print e facciamo partire il disegno ragazzi ho appena cercato di livellare tutto il piano vediamo adesso il risultato devo solo alzare un po' il piano di dietro diciamo che ci possiamo accontentare allora la struttura è questa qui l'unico problema adesso è livellare questo piano qui allora adesso noi abbiamo visto adesso abbiamo disegnato una semplice scritta con estensione gcode proviamo a prendere una semplicissima immagine da internet con estensione png ad esempio e proviamo a salvarla con estensione gcode e farla disegnare quindi scarichiamo un'immagine da internet ad esempio arduino quindi noi basta facciamo tasto destro salva immagini e come e la salviamo nel formato quindi ad esempio arduino logo svg e facciamo salva una volta salvato apriamo escape cancelliamo la vecchia immagine e premiamo su importa e andiamo a selezionare arduino una volta selezionato arduino che è immenso rimpiccioliamo prima l'immagine ecco qui e lo facciamo che incide sempre da 8 a 4 però prima di salvarlo dobbiamo andare in tracciato vettorizza e facciamo una scansione e facciamo aggiorna e facciamo ok una volta fatto ciò spostiamo l'immagine cancelliamo quella di giù e come vediamo forse non si vede bene prendiamo due volte sopra l'immagine quindi due volte e la spostiamo per vedere se c'è ecco infatti c'era un uno strato trasparente da dietro un po colorato e noi lo cancelliamo perchè se invece non lo cancellavamo nel formato cioè nel disegno che andiamo a fare ci disegnava anche la cornice quindi anche questo rettangolo invece noi vogliamo solo il tracciato quindi il contorno e lo cancelliamo una volta fatto ciò facciamo tracciato da linea a tracciato selezioniamo e quindi ci esce questa figura facciamo salva in formato gcode quindi scriviamo arduino 1 arduino 1 arduino 1 e selezioniamo gcode e lo salviamo dopo di che andiamo su pronta interface premiamo lo add file e premiamo su arduino e ci seleziona arduino dopo di che facciamo prem ecco qui una volta che ha finito di disegnare il risultato finale è questo qui adesso bisogna solo livellare un po' il piano per avere un disegno molto più preciso però non ci possiamo lamentare allora nel primo tutorial abbiamo fatto vedere come si costruiva l'asse X nel secondo come si costruiva l'asse Y e in questo tutorial abbiamo fatto vedere come si costruisce l'asse Z e abbiamo testato il loro funzionamento abbiamo visto che funzionano tutte e tre quindi i driver e il servo motore li abbiamo collegati nel modo giusto e abbiamo visto anche come si crea come si salva un formato gcode e ho cercato di spiegarvela nel modo più facile possibile se avete domande commentate ma soprattutto se avete problemi a realizzarla contattatemi e seguitemi sui social quindi facebook ed instagram e se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi per questo video è tutto un saluto da NGMAX al prossimo video quindi